un saluto dalla redazione del gr asin studio marco paganelli apriamo con gli esteri seconda guarigione dall'aiz nella medesima modalità in cui è avvenuta la prima dodici anni fa la notizia è stata divulgata oggi dalla rivista nature la fonte ha precisato che il paziente di cui non si conosce al momento il nome è guarito a londra grazie al trapianto di midollo effettuato in questi giorni rimane alta la tensione tra india e pakistan continuano gli scontri con armi convenzionali tra le due potenze nucleari nella regione del cashmere un sottomarino di daily è stato intercettato oggi nelle acque pakistane le forze armate di islamabad hanno precisato che il mezzo è ritornato senza incidenti nel proprio confine marittimo e che non è stato preso di mira per non vanificare gli sforzi di pace degli ultimi giorni compiuti da entrambe le nazioni rientrato ieri in venezuela one guaidò l'atterraggio del suo aereo avvenuto presso lo scalo di caracas dove erano presenti ambasciatori di diverse nazioni che lo hanno accolto è stato preceduto dal duro monito del vicepresidente statunitense alle autorità del paese non arrestate il giovane leader dell'opposizione o interverremo rapidamente il mondo vi guarda affermato infatti mike pens l'esponente sudamericano ha incontrato poi sui sostenitori indetto per sabato prossimo nuove manifestazioni contro il capo dello stato nicolás maduro veniamo nel nostro paese l'italia è in recessione tecnica lo ha confermato oggi l'istat il pil del quarto trimestre del 2018 è diminuito infatti dello 0,1 per cento su base congiunturale dopo la medesima decrescita segnata nei tre mesi precedenti l'istituto di statistica ha evidenziato anche una diminuzione delle scorte ma al contempo un incremento dei consumi degli investimenti fissi lordi e delle esportazioni vertice a palazzo chigi oggi per analizzare i costi e benefici inerenti alla tav il premier ha detto al termine che ci sarà da domani alle 20 e 30 una riunione a oltranza con i tecnici prenderemo la scelta migliore per i cittadini così giuseppe conte che ha assicurato che il governo non è a rischio la soluzione nelle mani dei cittadini ha ripetuto il capogruppo della lega la camera riccardo molinari quello del pd al senato andrea marcucci ha annunciato di aver depositato la mozione di sfiducia contro il ministro delle infrastrutture danilo toninelli umberto bossi è stato dimesso oggi dall'ospedale di varese in cui era stato ricoverato dal 14 febbraio scorso a causa di un malore sarà trasferito per la convalescenza in una struttura di lugano in svizzera per il momento è tutto grazie per l'ascolto ci risentiamo nel prossimo appuntamento del gr asi grazie